Io non sto qua in Italia, sto in Francia. Da noi ce ne sono molti di questi locali e ognuno fa come pensa. C'è gente che vuole andare, che gli piace e c'è gente che non gli interessa affatto e non ci vanno. La Chiesa normalmente non si dovrebbe intromettere in queste cose qua. Sono anche io il contrario, perché vengono a mancare i valori dell'uomo, della persona, della famiglia. Qua diventano, come devo dire, una società troppo degradata. Allora la gente poi, cosa succede? Che la famiglia non si costruisce più, perché uno va là e fa lo scambio di coppia. I giovani, che esempio dobbiamo dare a questi giovani? Il cambio di coppia è sempre stato malissimo in tutta la zona, perché non è stato mai bene il cambio di coppia della persona, perché la privacy di una persona, che vuol dire marito e moglie, è sempre con un gatto e soltanto marito e moglie e basta. Quindi lei non andrebbe mai? Non andrebbe mai a scambiare la coppia con mia moglie, con mia moglie a scambiare con un'altra persona mai. Mai al mondo, non esiste questo. In questa città non vedo il bisogno di queste situazioni. Comunque se tutto è fatto in regola non vedo dove c'è il problema comunque. No, io non sono d'accordo. Perché? Perché non mi piace. Io dico che è una cosa normale che succede in tutta Italia e da anni. Ognuno è il padrone della propria vita, niente più. La Chiesa pensasse ai fatti suoi, perché abbiamo avuto di queste belle occasioni. Beh, favorevole in un certo modo, diciamo, perché favorevole per certe persone che hanno bisogno di... Quindi lei ci andrà? No, non penso, non penso proprio, perché diciamo che c'è qualcuno che ce lo vieta.